Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente nella giornata di mercoledì 27 aprile intorno alle 13 all'incrocio per Barrio e Torre Canavesa a Castellamonte. Si sono scontrate una Volkswagen Golf e una Fort K. L'impatto è stato violento e la K si è ribaltata. Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte, i vigili del fuoco di Brea, l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 51 e i carabinieri di Castellamonte. Subito a soccorso gli occupanti della K, il cui conducente è stato liberato dall'abitacolo dove era rimasto incastrato. Dopo le prime cure, le due persone sono state trasportate all'ospedale di Brea, non sono in pericolo di vita. Qualche contusione e tanto spavento per il conducente della Golf. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Grazie a tutti.